Lima ha la ricetta perfetta per diventare un viaggio indimenticabile. Situata sulla costa pacifica, Lima è una città la cui identità è caratterizzata da differenti culture e combina perfettamente secoli di storia con un'architettura all'avanguardia. È una città vivace, ricca d'arte, danze tradizionali e una cultura locale che fonde memorie e modernità e questo mix di culture è evidente nelle persone che abitano la grande metropoli. I quartieri come Miraflores sono un must se sei in cerca di una giornata di shopping o semplicemente per godere degli incredibili panorami del lungomare, ideale per scoprire il lato cosmopolita di Lima. Come capitale culinaria del Sud America, Lima offre i sapori e i profumi più apprezzati del continente. Ospita infatti tre tra i 50 migliori ristoranti al mondo e una varietà di locali che portano tradizioni e sapori da ogni regione del paese. Se stai cercando qualcosa di diverso e unico, Lima fa per te!